Ciao, sono Paolo Marchesan, Nutritional Sport Consultant, diplomato presso il College of Naturopathic Medicine. Mi occupo di integrazione alimentare e di alimentazione da oltre 20 anni. Oggi parleremo della nutrizione per il soggetto sportivo, facendo riferimento in particolare all'utilizzo delle proteine. Lo sport è benessere. L'allenamento sportivo, tuttavia, per poter essere funzionale, produce danni all'organismo. Questo perché vengono accelerati i processi di ossidazione e perché avviene la rottura delle fibre muscolari, la quale a sua volta produce infiammazione e acidosi. La nutrizione quindi deve favorire la performance, ma tenendo conto anche dell'importanza del mantenimento del benessere. L'intake quotidiano delle proteine, laddove per un soggetto sedentario è di circa un grammo al giorno per ogni chilo di peso corporeo, per il soggetto sportivo può raggiungere anche 1,5-2 grammi al giorno per ogni chilo di peso corporeo. Dopo l'allenamento si apre un periodo che dura circa un'ora, definito finestra anabolica, nel quale l'organismo è maggiormente predisposto ad assimilare le proteine per la riparazione e la ricostruzione dei tessuti muscolari che io ho avuto durante l'allenamento sportivo. L'attività sportiva abbiamo detto produce anche acidità, acidosi metabolica viene definita. Sappiamo anche che le proteine animali apportano ulteriormente precursori acidi, mentre le proteine vegetali apportano invece precursori alcalini. Quindi per mantenere il corretto equilibrio di acidità all'interno dell'organismo sarebbe opportuno che il 50% delle proteine derivasse dal mondo animale e il 50% da quello vegetale. Utilizzando il rapporto corretto tra proteine derivate dai legumi, dalla frutta secca e dai cereali, noi possiamo comunque ottenere tutti e i 9 aminoacidi essenziali, i 2 semi essenziali e i 9 non essenziali. Tra di questi anche i 3 ramificati così importanti per il soggetto sportivo, in quanto bypassando il fegato possono essere utilizzati nell'immediato anche a scopi energetici. La maggior parte delle proteine vegetali vengono considerate interessanti soprattutto se sono di natura isolata. Proteine isolate, per esempio della soia, del grano, del pisello. Che caratteristica hanno queste particolari proteine. Hanno la caratteristica di non contenere zuccheri, i glucidi, che altrimenti sarebbero contenuti nei vegetali che noi mangiamo. L'integrazione alimentare serve per garantire quindi il corretto apporto di proteine che solo con il cibo a volte è molto difficile da ottenere, soprattutto per rispettare il timing. Se in quell'ora dopo l'allenamento mangio, facciamo un esempio, una bistecca, è evidente che siccome il tempo di digestione supera l'ora, soltanto una parte di quelle proteine potranno essere gestite dal mio organismo per riparare i tessuti danneggiati. Quindi una integrazione con proteine a rapida assimilazione aiuta a raggiungere il corretto intake. Abbiamo parlato della nutrizione per il soggetto sportivo, abbiamo parlato dell'importanza delle proteine. Grazie a tutti.